Circa 1300 le persone che hanno visitato gli ex seccatoi del tabacco in occasione della nuova riapertura al termine dei lavori effettuati nei capannoni. Due fine settimana da tutto esaurito, con gli appassionati, i curiosi o la gente comune che, per vedere le opere del maestro Burri, hanno aspettato anche in fila. Una riapertura attesa, come ha dimostrato, il flusso di gente continuo dopo le opere di miglioramento. In totale sono stati 10 i milioni investiti dalla Fondazione Burri in 7 anni di lavoro, dal 2015 al 2022. Si è iniziato con la riqualificazione del piano sottostante e i risanamenti esterni, costati circa 5.700.000 euro. Due milioni e mezzo circa di euro sono stati invece investiti per la nuova area, inaugurata nel 2019, alle circa altrettanti per il restyling del piano superiore con importanti lavori climatici sulla pavimentazione e di manutenzione delle opere. Adesso, come hanno spiegato i vertici della Fondazione, si guarda al futuro con importanti progetti, fra cui gli impianti fotovoltaici sopra i tetti, nei due capannoni esterni c'è allo studio la realizzazione di un bunker che accolga in sicurezza le opere, un laboratorio di restauro e un altro che sarà dedicato alla didattica, coinvolgendo a realtà come l'Università Sapienza di Roma. Infine, con l'acquisto da parte della fondazione di una palazzina adiacente al perimetro dell'impianto del giardino della struttura, c'è un progetto di realizzare un punto di ristoro.